Molti cittadini stanno contattando Feder Consumatori Arezzo per segnalare fatture extra con importi estremamente elevati a seguito di variazioni tariffarie nel mercato libero. Queste segnalazioni pervengono da pensionati, lavoratori dipendenti e attività economiche. I cittadini e le imprese hanno attuato misure per diminuire e contenere i consumi di energia ma i loro sforzi sono vanificati dalle decisioni di aumentare le tariffe assunte dalle società di vendita tra le quali si annovera extra energia. Questa decisione di aumentare i costi del gas non trova alcuna giustificazione nella difficoltà di approvvigionamento o nelle incertezze del mercato internazionale tanto che la stessa autorità garante prevede nel mercato di maggiore tutela una diminuzione del 34%. Si ricorda che le modifiche unilaterali di contratto sono state espressamente vietate dal governo Draghi fino al 30 aprile 2023. I cittadini invece riferiscono di comportamenti di extra energia di tutt'altro tenore, contratti con i quali si prospettano costi inferiori a quelli che poi vengono effettivamente applicati. Feder Consumatori Arezzo provvederà ad inviare un esposto alle autorità garanti con il quale denuncerà nel dettaglio ciò che sta avvenendo e al tempo stesso chiederà l'apertura di un'istruttoria per accertare la correttezza o meno dei comportamenti di extra energia. Oltre le denunce già ricevute Feder Consumatori invita i cittadini a contattare l'associazione per esporre i fatti e verificare le fatture e se non dovute per contestarle.